A te, fatti auguri a te, fatti auguri a te, fatti auguri a te. Ti ringrazio tutti. E noi il piacere che tu sei qua con noi. Orgoglio per Castellamonte è ancora una centenaria. Assolutamente sì. Auguri alla signora Pizzi Dobrilla, detta Tina, conosciuta da tutti in città come Tina. Auguri a lei e alla sua famiglia. Ma mi piace fare una battuta che mi faceva poco fa il presidente del Domenica Romana, che diceva venite al Domenica Romana che si campa cento anni, perché in effetti ci sono stati diversi compleanni ultimamente qui al Domenica Romana. Sarebbe bello anche dire venite a Castellamonte ad abitare che campate fino a cento anni. Ecco, questo può essere l'augurio, quindi venite tutti a Castellamonte. Come da tradizione l'amministrazione comunale non è mancata ai fissaggiamenti. Sì, certamente. Noi ci teniamo a coccolare i nostri abitanti. I cento anni è un traguardo bellissimo che auguriamo ovviamente di raggiungere a tutti i nostri concittadini, anche a chi non è nostro concittadino ovviamente. Però oggi in particolare i nostri auguri vanno a Tina. L'abbiamo festeggiata degnamente come voi avete visto. Applausi Grazie!